Un grande successo per la seconda edizione dell'iniziativa natalizia promossa da Oxfam, un regalo con i fiocchi per tutti. 82.961 euro raccolti grazie al progetto di Natale Solidale, al quale hanno partecipato oltre 50 punti vendita Euronics di Toscana, Umbria, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Solo in provincia di Arezzo, nonostante le ripercussioni della crisi economica, il contributo è stato di 12.247 euro, fondi che contribuiranno a migliorare le condizioni di vita di oltre 20.000 persone grazie alla campagna internazionale di Oxfam coltiva il cibo, la vita, il pianeta. Questa è la seconda edizione Miglioriamo, quindi speriamo una terza o una quarta sempre migliore. Ci sono stati volti noti, testimonial che ci hanno sostenuto come il Cile o Cesare De Negrita o Emily Laginnasta. È un progetto che si sta ampliando, si è ampliato, si è ottimizzato, ha mobilitato circa 600 volontari che appunto si sono prestati a impacchettare regali nei punti vendita Euronics per i clienti. Una media di 1.500 euro a punto vendita, inoltre 50 punti vendita Euronics. Sì, noi è già la seconda volta che collaboriamo con Oxfam a questa iniziativa, siamo sempre molto contenti di questa collaborazione, vedere che ci sono stati così grandi risultati grazie anche appunto a Euronics, alla disponibilità che abbiamo dato, ci può fare altro che piacere. Insomma, quindi benvengano queste iniziative e benvenga anche l'anno prossimo che si ripeta sperando sempre negli stessi risultati.